Inaugurata ieri la tratta metropolitana annesima a Montepo, lunga 1,7 km, comprende due nuove stazioni, Fontana e Montepo. Il costo complessivo dell'intervento è stato di 93 milioni di euro, con un totale per chilometro di 54,7 milioni di euro. Il costo della singola opera, cioè della galleria continua che collega le due destinazioni, di 1,5 miliardi di euro. Con questa estensione la lunghezza totale della metropolitana etnea passa da 8,8 km e 10 stazioni a 10,5 km e 12 stazioni. Le principali opere realizzate includono una galleria di linea lunga 1,7 km, realizzata con scavo meccanizzato e sei aperture equilibratrici dotate di impianti di aerazione per la ventilazione della galleria. La stazione Fontana offre un accesso diretto all'ospedale Garibaldi, diventando così l'unica metro in grado di collegare direttamente ad un ospedale. E' naturalmente presente il ministro Matteo Salvini che afferma stiamo recuperando anni di dimenticanze. Inauguriamo due nuove fermate della metropolitana Catania a servizio dell'ospedale di un quartiere popolare. E' solo l'inizio di un lungo percorso che arriverà a portare a Catania, alla provincia di Catania, una delle reti metropolitane più estese d'Italia. E' uno dei tanti lavori dei cantieri che sto seguendo da ministro, quasi 100 miliardi fra strade e autostrade e ferrovie, fra Sicilia e Calabria. E quindi sono contento perché stiamo recuperando anni e anni di dimenticanze. Il ponte sullo stretto porterà a una grande rete metropolitana che unirà Sicilia e Calabria con delle nuove fermate anche a Messina. Quindi stiamo correndo per restituire a siciliani e calabresi quel diritto alla mobilità e al lavoro che negli anni passati non sempre hanno avuto.